Ciao a tutti, mi scuso, sono un po' assente in questo periodo perché sto lavorando, sto lavorando peraltro anche lontano da casa, in provincia di Novara, io sapete che abito in provincia di Vicenza e quindi tra i giorni di lavoro e quelli di viaggio durante i riposi in pratica casi non ci sono così mai e mi resta veramente poco tempo per registrare. Naturalmente nella cucina del ristorante presso cui lavoro, come in molte cucine, non ho modo di registrare, sono al tenimento al castello, a Sillavengo in provincia di Novara per l'appunto e quindi mi vedete un po' assente, però resto qua, quindi appena posso ricomincio nuovamente con i miei video. Oggi ne registrerò qualcuno, nelle prossime settimane inizierò a pubblicarli man mano che li sistemo in fase di editing post registrazione e niente, questo è tutto, per intanto vi auguro buona cucina e ci rivediamo presto, ciao!